Si complica l'avvertenza dei lavoratori dell'ex zuccherificio del Molise. L'incontro in regione si è chiuso con un nulla di fatto. Con rammarico e indignazione, si legge in una nota di CGL Cisle Will, dobbiamo segnalare l'assenza del presidente della regione Paolo Di Laura Frattura e del suo vice Vittorino Facciolla. Presenta invece l'assessore allo sviluppo economico Carlo Veneziale che ha relazionato sulla questione, parlando del passato, del presente e di un futuro molto lontano, componendo un bel poema, ancora nel comunicato della triade sindacale. Per le organizzazioni sindacali diventa dunque difficile poter affrontare il tema del futuro dei lavoratori ex zuccherificio che hanno terminato anche gli ammortizzatori sociali. Ci aveva provato il senatore Roberto Ruta a inserire un apposito emendamento nella legge di bilancio, ma è stato bocciato perché altrimenti sarebbero scattati eguali provvedimenti per altri territori italiani e in quel caso non ci sarebbero stati i necessari fondi. L'assessore veneziale ha illustrato la possibilità di bandi, tirocini formativi e fin anche la creazione di nuove imprese, misure che per i sindacati però non risolvono la questione perché ritenute insufficienti, quando non addirittura inappropriate. Alla domanda se c'era la possibilità di una mobilità in deroga stanziata dalla regione Molise, l'assessore veneziale ha risposto che, stando ai conti, non ci sarebbero i fondi per poterla prevedere e su questa richiesta l'incontro è stato rinviato a nuova data.